Cristo Ferrali Mosano lo conoscevano in tanti, aveva la passione del calcio e giocava spesso a pallone con gli ospiti stranieri di un'altra onlus, l'isola che non c'è, che si prende cura dei giovani migranti non accompagnati. Da qualche tempo il ragazzo di 17 anni, residente a Rosciano in provincia di Pescara, viveva in paese in una comunità per minori allontanati dalle proprie famiglie, il piccolo principe gestita da una onlus di Campobasso. Due eccellenze del nostro piccolo comune le ha definite la sindaca Angela Amoroso, addolorata per la morte del ragazzo assassinato a coltellate da due adolescenti a Pescara. Lo conoscevo, ha aggiunto, e lo vedevo giocare a calcio con gli altri ragazzi ospiti. Venerdì Christopher Thomas Luciani si è allontanato da Limosano facendo perdere le sue tracce. La denuncia ai carabinieri è scattata subito. Il resto è cronaca. Il ritrovamento del corpo senza vita del minorenne nel parco Baden-Powell, 200 metri alle spalle della stazione centrale di Pescara, seminascosto da una siepe, trafitto da 25 coltellate inferte da due suoi coitanei, pare con un pugnale da sub. Due bravi ragazzi subito rintracciati dagli investigatori, due liceali sedicenni, uno figlio di un'avvocata, l'altro di un maresciallo dei carabinieri. Determinante per chiudere il cerchio sull'omicidio, la testimonianza di un amico dei liceali che dopo i fatti, compresa la gravità dell'accaduto, ha dato l'allarme, un omicidio spietato sullo sfondo lo spaccio di droga e tre vite di coetanei che si sono tragicamente incrociate. Dal primo interrogatorio uno dei due presunti assassini ha affermato di non aver mai conosciuto Christopher ma solo di sapere chi fosse. Ma è tutta la ricostruzione dei fatti ad avere ancora lati oscuri, poco chiara anche la dinamica dell'omicidio, chi sia stato a sferrare le coltellate o se ci sia stata cooperazione. Così come stanno emergendo dubbi sul movente economico del delitto, chi deve a chi e quanto. I due, dopo l'interrogatorio, sono stati trasferiti uno nella struttura dedicata all'accoglienza del Tribunale dei Minori dell'Aquila, l'altro in una struttura analoga a Roma.